ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video questo video che non ho mai fatto sul canale e volevo parlare di questa cosa che mi succede praticamente su instagram io ho messo il titolo di leggiamo i commenti su instagram però alla fine sono commenti in privato per cui tutti quei commenti che vi faccio vedere in privato ovviamente i nomi saranno cancellati per cui non vedete i nomi per privacy sì non potrei farvi vedere i commenti ricevuti su in privato tramite instagram perché sono private ma dato che volevo parlare di questa cosa volevo dirlo una volta per tutte e poi chiedervi un favore almeno per quelli che mi seguono per cui allora prima di tutto guardate fino in fondo questo video sarà forse un po lunghino anche perché non riesco spiegare in breve come sono fatta io ma voglio spiegarvi più o meno che cosa sta succedendo cosa mi succede su instagram e se mi potete aiutare voi cioè per chi ha instagram perché mi segui su instagram o tantomeno per chi ha instagram per cui allora però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale seguirmi su instagram mi raccomando che vi aspetto e volevo anche dirvi questo quando mi inviate la richiesta di amicizia no se volete seguirmi su instagram da adesso in poi in ogni video ve lo dirò in ogni video che faccio diverso per chi vuole seguirmi su instagram e mi invia la richiesta per favore mi mandate un messaggio in privato con scritto io ti seguo su youtube così almeno io capisco che siete voi che mi seguite su youtube e io l'accetto perché adesso vi spiegherò il motivo del perché d'oggi in poi faccio sempre così allora vi dico io ho in profilo privato calcolate che chi ha instagram e al profilo privato giustamente avendo un profilo privato in un pubblico tu metti tutto quello che vuoi tu in senso la tua vita quello che fai le cose private o tantomeno anche non solo le cose private però diciamo che avendo un profilo privato che tu dici di voi un profilo privato così le persone prima che mi seguono si chiedono la richiesta però la lasciano poi lì non che ti chiedo la richiesta di di seguirmi e poi neanche due ore neanche cinque minuti questa richiesta non c'è più cioè questo follower chiamiamolo così sparisce non c'è più perché non mi segui più allora diciamo che in questi mesi ho qualche problema su instagram in senso che non so se è vero non so se succede anche voi però fatemi sapere però ho notato che i follower diventano sempre meno in senso che mi mi chiedono la richiesta e poi dopo neanche appunto cinque minuti non c'è più la sua richiesta la richiesta che mi ha diciamo chiesto la la persona o ancora peggio la persona che mi segue da più di un mese da più di un anno alla fine prende e non c'è più la sua richiesta non c'è più il follower io non so se è il problema di instagram perché io poi ho mandato un messaggio in privato a un ragazzo un signore dove mi seguiva di più di un mese e gli faccio ciao scusa ma come mai ai tirato via il follower sul mio profilo e lui mi risponde a non mi sono accorta scusa non sapevo che che io mi sono secondo me è stato instagram adesso non so se era una scusa perché ho ricevuto parecchi commenti in privato su questo genere che molte persone si sono accorte che non hanno più il mio follower o tantomeno il follower insieme in tutti e due profili e però c'è sul mio ce l'hanno invece sul suo sul sul loro no in senso che loro non hanno non sono follower su di me sul mio profilo ma io ho il follower sul loro profilo non so se mi sono stata chiara comunque ogni tanto ricevo questi commenti in privato io non so perché dico commenti ma meglio messaggi in questi messaggi in privato dicendo che secondo me è stato instagram perché quando quella persona l'ho ancora accettata dopo due secondi il follower è uscito cioè non era più follower ho riprovato di nuovo e ancora è come se boh mi cancellava il follower adesso non è il fatto dei follower di quanti follower o di tanti follower di avere cioè non è questo il fatto voglio precisare prima che poi scrivo prima che poi mi scrivete sotto nei commenti e ma cosa te ne fai di tanti follower ma perché ti deve così tanto interessare avere i tanti follower o i follower eccetera no vi spiego questo allora se un personaggio pubblico come l'influencer o tantomeno le persone che non mettono foto o non mettono quello che fanno su instagram perché i social diciamocelo bene i social sono dove tu guardi la persona che fa perché se no che che senso a me fare un profilo stare lì se nessuno fa niente tantomeno non fa vedere niente non serve a niente capito per cui quello che voglio dire io no se sono pubblica se sono un profilo pubblico potete seguirmi non seguirmi non me ne frega perché tanto voi vedete tutte le mie foto vedete tutte le mie storie dato che io sono pubblica no è uguale con i come come youtube se youtube ad esempio inizia a dire ok non voglio più che le persone stanno lì a guardare tutto il profilo tutti i video senza essere iscritti io blocco tutto cioè in senso youtube blocca tutto mette il canale privato e voi dovete diciamo iscrivervi per vedere tutto il canale tutti i video commentare eccetera cioè per cui calcolate se youtube fa la stessa cosa come fa instagram per cui uguale ovviamente io sono un personaggio pubblico su youtube perché voi vedete i miei video potete commentare senza che voi mi seguite sul canale in poche parole invece su instagram è diverso lì puoi avere un profilo privato come su ttoc e tantomeno puoi decidere se averlo anche pubblico dato che io ce l'ho privato prima privato vuol dire che ci sono le mie cose le mie foto tutte le cose private la mia vita posso mettere anche che ne so mio fratello ad esempio se lui non vuole posso mettere mio fratello eccetera sono cose private lo dice anche il profilo privato a me non mi piace che la gente mi chiede il follower di seguirmi e di seguirlo o seguirla per poi guardare il mio profilo e dire e ma non mi piace diciamo quello i contenuti che metti non mi piacciono per cui io prendo e non ti seguo più dopo neanche due minuti che tu o mi hai richiesto la il segui basta dice di non seguirmi più perché il mio profilo dopo che lei guardato tutto che era privato dice di di non guardarlo più no e io li dico perché chiedimelo invece di di inviarmi la richiesta per poi guardare tutto il mio profilo per fare i cazzi miei scusate l'espressione per poi dire no non mi interessa quello che pubblichi e poi non mi segui più a me mi sta sulle palline perché se vedi che un profilo privato vuol dire che metto tutte le mie cose che potrebbe far sì che te non ti interessano per cui cosa me la chiede a fare la richiesta questo è quello che in poche parole è successo io adesso vi leggo vi faccio vedere i commenti in privato ovviamente vi leggo qualche commento perché sono un po tantini e sarà difficile che perché sennò questo video dura tanto per cui vi faccio un esempio di commenti che ricevo in privato e commenti che dico io in senso che io alla gente allora all'inizio si vedevo chi toglieva al segui e allora gli scrivevo posso chiederti perché hai tolto il segui ogni volta per chi mi toglieva il segui mandavo il messaggino in privato dicendo perché mi tolto segui se poi me le me l'hai chiesto anche due minuti fa o neanche c'è gente che che da un anno che mi segue e dopo basta tira via il segui tanto neanche con me c'è mi scrivono delle cose assurde che adesso vi leggo allora il commento di un ragazzo è dopo avere dopo quello che vi ho detto due secondi fa in che senso e io gli scrivo perché mi chiedi segui se poi me lo togli e non mi segui più per farvi capire e lui mi ha mi ha scritto adesso vi faccio diciamo divertire aspettavo che mi scrivessi non ci speravo molto in realtà questo è stato il primo commento che mi ha fatto ridere in senso che che cavolo vuol dire non c'è solo perché io non ti seguo non ti scrivo allora mi devi togliere dal dall'amico dagli amici su sul mio profilo dopo tanti mesi che mi seguiva perché credo che questo mi seguiva hanno non c'è scritto no forse del 2021 quasi forse un anno e mi scrive sta cosa qua e io ovviamente poi gli ho scritto puntini di domanda come per dire ma che senso ha sto con me sto sto messaggio se io ti scrivo il perché mi togli il segui non è un commento perché potrebbe cioè non è che io adesso con 500 follower che ho vado e scrivo tutte a queste persone dicendo e vado a disturbare le persone dicendo ciao come stai quella su giù cioè siete voi a mandarmi un messaggio in privato che a me mi fa piacere se mi mandate mi scrivete in privato ciao come stai tutto bene oppure possiamo anche raccontare quello che vogliamo come io sto facendo con un con un amico che mi segue su youtube guarda i miei video ma mi segue anche su su instagram e ogni volta ci segui cioè ci ci scriviamo i messaggi in privato tutti i giorni per farvi capire adesso vi vi faccio leggere al c'è vi dico poi come se riesco a trovare il messaggio vi dico come è andato a finire in poche parole mi scrive scherzo non so perché ho smesso di seguirti se è così in pa se è così importante per te ti metto ovviamente il follower cioè per me non era uno scherzo uno che ti scrive così primo perché dopo tanti mesi mi tiri via l'amicizia su instagram mi girano un po le palline perché dico cavolo dopo che guardi le mie foto dopo che guardi le mie storie sai quasi tutto di me perché su instagram alla fine molte persone sanno praticamente tutto di me cioè tranne come mi chiamo perché quello voglio che resta privato perché non si sa mai perché c'è gente un po preferisco cioè essere onesti perché se io ti seguo no e poi dopo noto che tu non mi segui più allora a parte che cosa ti seguo a fare e secondo non è giusto nei miei confronti e e poi mi fa dimmi una cosa scrivi a tutti quelli che scrivono di seguirti e io li dico ma cosa te ne frega cioè io gli ho scritto no ma dato che non mi piace che prima mi chiedi il segui e poi me lo togli dopo che hai visto il mio profilo dato che è privato e non pubblico quello che vi dicevo prima e lui mi ha scritto ho capito comunque la richiesta l'ho inviata cioè alla fine è come se mi prendi per i fondellini perché dico cioè se ti ho fatto una domanda mi devi rispondere non è che instagram io non credo che instagram togliere i follower così dopo tanti mesi anzi fatemelo sapere qui sotto nei commenti scrivetemi per favore se succede anche a voi questa cosa perché a me non mi piace sta cosa c'è e allora io gli ho scritto se non ti interessa quello che faccio è il mio profilo perché chiedi di nuovo la richiesta e in più io solo chiesto perché prima mi segui e poi mi togli l'amicizia questo chiesto adesso io non riesco più a trovare l'altro pezzo del messaggio mi sembra che mi ha scritto messaggino forse non mi ha più scritto io alla fine mi sono stancata perché inutile poi andare avanti a scrivere a queste persone allora ho preso l'ho bloccato e l'ho eliminato perché tanto preferisco bloccare queste persone se poi alla fine continuano a chiedere l'amicizia così tanto per vedere quello che faccio sul mio profilo c'è e la stessa cosa vale anche per una ragazza che adesso qua vi dico mi ha fatto anche ridere come ha risposto questa questa ragazza io chiesto la stessa domanda sì l'ho chiesto quasi a tutti a tutti quelli che mi hanno tolto il follower dopo che sono passati mesi e dopo anche che mi hanno richiesto l'amicizia dopo cinque minuti cioè le vivi al follower come questa ragazza qua che sinceramente ci sono rimasta gli faccio scusa perché mi chiedi di seguirti se poi lo togli e lei mi risponde ciao ho visto il profilo e volevo vedere chi fossi e che continuo ti portassi e ho smesso perché sono contenuti che non mi interessano e io mi domando ma se un profilo privato ma perché devi chiedermi l'amicizia non sono un pubblico che sono tipo una youtuber o tantomeno un personaggio tipo influencer fatemi una domanda perché certe youtuber hanno iniziato a mettere profilo privato su instagram fatevela questa domanda perché perché ricevono sempre segui follower anche feche falsi no che seguivano persone le stesse persone tante persone ricevono tanti commenti sia in privato che sotto nei nei video eccetera dove ovviamente c'erano state anche minacce o tantomeno ti seguiva il profilo e continuano dire ma tu non fai proprio puntini puntini e allora ovviamente io conosco due youtuber che hanno messo il profilo privato perché hanno ricevuto tanti fake tanti profili falsi dove le persone volevano vedere cosa facevi e basta tutto qua per cui alla fine io prima di fare il profilo è normale che l'ho messo privato perché ho detto non lo metto pubblico perché se sono cose private mie sono cose che c'è o me lo chiedi mandi un messaggino in privato mi dici guarda volevo chiederti prima di perché quello per farvi cioè io voglio farvi capire che a me non piace che la gente guarda il profilo privato su tutto quello commesso la mia vita eccetera e poi dopo mi togli il segui perché non ti interessa c'è per quello che io voglio voglio farvi capire questo e lei mi ha risposto scusa non capisco quale sia il problema è una questione di stato per un follower c'è come avevo detto prima non è il follower è fatto del privato del mio profilo privato e io gli scrivo a me non piace che guardi il mio profilo della mia vita privata se poi non ti interessa ovviamente continuo il messaggio adesso non so i pezzettini perché non mi ricordo ok mi scrive ok infatti non la guardo più perché non ti seguo non sto seguendo il tuo discorso comunque cioè una persona non è libera di smettere di seguire o seguire e io adesso non so sì poi vabbè vi lascio tutti i messaggi che mi ha scritto io gli faccio nessun problema ti segnalo ti blocco come per dire prima che poi mi richiedi di nuovo il segui perché può essere anche un'altra persona o fare che ne so altri profili allora giustamente bloccato questa persona dopo che ho ricevuto tutti questi commenti messaggi e e poi io ho scritto perché poi dopo mi ha dato ragione quando l'ho bloccata da quando ho accettato la tua richiesta di amicizia tu hai visto tutto il mio profilo in poche parole e lei vabbè mi fa ma non capisco il fatto di bloccarmi sul se non ti segui eccetera e io gli ho scritto io ti blocco perché non si sa mai se se sei un fake che cerca di di nuovo allora mi fa vabbè basta non capisco il discorso non è un insulto perché bannare una persona se ha il profilo privato e poi vabbè altre cose che io non riesco a leggere fino là perché ho il computer distante e vabbè poi ovviamente ho detto ribadisco ho scritto anche non si sa mai allora ho scritto beh se non se non sa ma non si sa mai se è un profilo fake io ho scritto e ovviamente lei mi ha detto hai ragione queste sono le la conversazione che ovviamente ho fatto con questa ragazza quello che volevo far capire anche queste persone no io si accetto ovviamente la richiesta su instagram però guardo sempre la foto di profilo quanti follower ha e tantomeno quante persone segue o se ha poster io la prima cosa guardo quello prima che una persona mi chiede l'amicizia perché perché tu puoi essere vuoi avere un profilo con scritto che ne so Sabrina io posso avere un profilo scritto Sabrina mettere una foto di internet e avere così faccio la foto la trocca o neanche follower o seguiti e chiedere la richiesta no all'inizio tu pensi meglio controllare questo profilo perché se io un profilo privato e non voglio che i miei che ne so i miei genitori la mia famiglia i miei parenti i cugini o che ne so eccetera non voglio che mi seguono su instagram no perché è privato perché voglio che sono cose mie se massimo preferisco che mi seguono persone che non mi conoscono che persone che mi conoscono ad esempio parenti che guardano il mio instagram c'è per vedere i cavoli miei e basta e criticarmi allora cosa faccio faccio così per quello che io dico preferisco che mi seguono le persone e basta senza che mi chiedono il segue poi me lo tolgono perché non si sa mai se quella persona è falsa è proprio falsa può essere anche una persona che conosce ad esempio un cugino che fa finta di avere questo nome di scrivermi queste cose in privato e che ne sai per cui dato che tu non vuoi che ne so il cugino il parente segui quello che fa o tantomeno lui mi deve seguire preferisco fare così cioè io adesso non so se è un problema di di instagram che tirano via i follower però un bel po di follower ho visto che non mi seguono più c'è buono riesco a capire perché se è problema di instagram allora mi girano le palline se è un problema delle persone che non capiscono che il mio profilo è privato sono un po stufa perché preferisco youtube al cento per cento che instagram per cui se andremo se vado avanti così che le persone non mi danno rispetto su quello che faccio sul mio profilo ovviamente poi potrò decidere di non avere più il profilo su instagram di cancellarlo e fare un profilo a parte che ne ho due tre di profili instagram però uno è per youtube che non pubblico quasi mai il secondo profilo è quello vero che ho che uso tutti i giorni per far vedere quello che faccio 24 ore su 24 giustamente c'è lo uso ovviamente non pubblico ad esempio il mio ragazzo non pubblico il mio fratello non pubblico un altro mio fratello perché per travesi perché sono cose private che non voglio mettere per cui non lo so non mi piace questa cosa qua voglio il vostro parere voglio sentirvi voglio vedere anche voi se è successo questa cosa se sta succedendo questa cosa perché a me non mi piace questo questo genere c'è un conto youtube diceva beh vuoi seguirmi seguimi non vuoi seguirmi però guarda i miei video chissà ne frega tanto le visualizzazioni me la me la dai io ci guadagno punto stop con instagram è diverso lì puoi guadagnare solo se fai un una sponsorizzazione su instagram puoi guadagnarci e basta ma facendo come faccio io che sono privata non sono pubblica giustamente le sponsorizzazioni non le posso fare su instagram perché le agenzie tutte le persone le pagine che in teoria seguo non possono vedere il mio profilo se non se non mi seguono non posso vedere il mio profilo per cui giustamente essendo privata non metterò mai pubblica mai per non far vedere le cose che faccio alle altre persone dare questa soddisfazioni perché vi assicuro ho ricevuto certi commenti se riesco a trovare la foto che l'ho fatta ve la metto qua vi faccio vedere se riesco a trovarla cosa mi ha scritto un signore perché credo che è stato un signore dove mi ha scritto ma non fai dalla mattina alla sera qualcosa del genere quando ho letto sto commento ci sono rimasta male non lo conosco forse mi segue su youtube ma quando ho letto questo commento ma non fai proprio dalla mattina alla sera io ci sono rimasta non ho non ho neanche risposto a questa persona l'ho solo bloccata eliminata e così a me non mi segui neanche più perché è un conto se mi segui perché davvero piace quello che faccio anche se sono cose private è un conto se tu mi scrivi in privato tantomeno sotto nei commenti ma non fai proprio un dopo che non sai niente di me tantomeno per 15 secondi che dura una storia mica sai quello che faccio se vado a lavorare c'è ma che commenti che risposte sono cioè non lo so per quello che io non voglio che la gente mi segue poi dopo due secondi mi tira via del follower perché io non faccio così cioè se io vedo un profilo privato e non mi interessa quella persona io non gli chiedo follower a quella persona perché non mi interessa se invece vedo una persona come come influencer come youtuber e dico ma quasi quasi mi interessa chiedo il follower schiaccio e la seguo e basta ma non è che poi non la seguo più perché non mi interessa più poi vabbè poi ci sono tante motivazioni che diceva bene non la seguo più perché mi ha un po stufato punto stop però io non credo che metto cose che stufano le persone perché metto le mie foto cioè faccio vedere i miei animali faccio vedere quello che faccio come certe persone per cui credo che instagram funziona così serve a vedere cosa fanno gli altri se no che cosa serve instagram fatemelo sapere cosa serve instagram cosa serve youtube però youtube ancora ancora ma instagram ti tocca cosa serve se non serve cioè se se non metti contenuti non metti quello che fai cosa serve cioè fatemelo sapere perché non so più cosa fare certi ogni giorno è sempre la stessa minata sempre la stessa storia e sono stufa per cui mi sono stufata e credo che poi deciderò di non di non aver più instagram perché sono proprio stufa di stare sempre dietro le persone che poi alla fine non interessa a loro non seguire poi prima tutto qua io dico che questo video è durato fin troppo mamma mia spero che siete arrivati fino alla fine se siete arrivati fino a qua lasciatemi un cuoricino sotto nei commenti di sostegno e fatemi sapere cosa ne pensate e se succede anche voi questa cosa perché voglio che mi aiutate su questa su questa faccenda perché non mi piace sinceramente per cui fatemi sapere voi cosa ne pensate noi ci vediamo ai prossimi video e scusate se questo video è durato fin troppo ma volevo farvi capire cosa mi è successo e cosa mi sta succedendo su instagram che andrà avanti sempre fino a quando non dici dodin non non accettare più nessuno per cui questo è ciao e al prossimo video